Il teatro tenda ad Arezzo ancora una volta punto unico di raccolta per i beni di prima necessità a favore delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. Dopo la prima raccolta e la conseguente consegna al campo 1 di Acqua Santa Terme, l'amministrazione comunale Aretina rivolge un nuovo appello alla cittadinanza che sin da subito ha fatto sentire la propria generosità e vicinanza alle popolazioni colpite dal terremoto. La nuova raccolta si svolgerà sabato 3 settembre dalle 8 alle 10 e alla cittadinanza vengono richiesti brandine, lettini pieghevoli oltre a materassi gonfiabili, tutto da campeggio. Ieri siamo stati ad Acqua Santa Terme, abbiamo portato una fornitura di cuscini, lenzuola, tende da campo che ha fornito la Caritas di Ocesana e hanno carenza di lettini, lettini da campeggio, brandine pieghevoli e materassini gonfiabili ma da campeggio. Un appello che volevo fare a tutti è non portate più vestiti perché non prendono vestiti usati. L'igiene personale ora sono a posto, nel senso i depositi sono pieni, noi abbiamo ancora parecchi scatoloni al teatro tenda che li manderemo via via e ce li chiederanno per smaltire anche tutto quello che abbiamo raccolto perché anche in questo caso gli aretini sono stati formidabili. Abbiamo il teatro tenda che nonostante due viaggi ancora pieni di alimenti, scatolame, cibi per animali, igiene personale, pannoloni per bambini, prodotti per bambini e non volevamo intasargli i depositi portando giù tutto ma via via che ce li chiederanno insomma andremo incontro alle loro esigenze. Grazie. Grazie. Grazie.